Il gruppo del Tribunale di Bari Luigia Lambriola ha condannato a pene comprese tra i due e gli otto anni di reclusione le dieci persone arrestate a novembre dalla Guardia di Finanza con l'accusa di aver minacciato per anni i soggetti in difficoltà economiche a cui concedevano prestiti con tassi da usura anche del 5.000%. L'inchiesta cravatterosa coordinata dal PM Lanfranco Marazia aveva fatto luce su 29 episodi di usura ed 8 di estorsione. Il periodo è quello compreso tra il 2011 e il 2020. Se non paghi vengo e ti sbrano, ti brucio l'auto, ti mando mio figlio con la pistola, ti faccio saltare in aria, sono alcune delle minacce rivolte alle vittime intercettate dai militari durante le indagini. I prestiti, anche solo di poche decine di euro, venivano chiesti da numerose famiglie baresi dei quartieri popolari di Iapigia, San Pasquale e San Paolo per far fronte alle spese quotidiane. Alla sbarra sono finiti due uomini e otto donne, tutti giudicati con rito abbreviato. La condanna più alta, a sette anni e otto mesi di reclusione, è stata inflitta a Maria Magistro, ritenuta colpevole di dieci episodi e condannata anche a risarcire l'unica vittima costituita parte civile.